E non inizia! E non inizia! E non c'è più! E come faccio? Non sto biretto! Non sto biretto! Mi manca, dammi dire che ti rinforzi qui! Dov'è? 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 Mi rinforzi! Dov'è? Non c'è? Non c'è? Perchè? Non arriva? Non ci arriva mai? Pedala di indirica! Pedala di indirica! Pedala di indirica! Ah! Non sto biretto! Non arriva! Non arriva! Non arriva! Maratona musicale! Non sto biretto! Non sto biretto! Non sto biretto! C'è la cena! C'è la cena! E poi c'è l'aperitivo! Non parlare dell'aperitivo! La musica! Tutta la migliacca! Si pedala! Si mangia! C'è piena di fighe! Ma cosa devo fare di più? Crisi di astinenzia di Fostok Fostok 2011 C'è la cena di curare! Ma chi è ninguè è di Fostok? Boh? Siamo l'Italia! Che in te! La nostra squadra non perderà mai! Noi ci doppiamo negli sfogliatoi! Ma di che cosa non lo saprete mai! Italia! Ma che è in te! Se sei Asterio con noi non giocherà!